ciao a tutti e in questo video continuiamo la nostra serie di video dedicata ai paesi dell'ex unione sovietica c'è tutta una playlist dedicata sia video sull'unione sovietica che i paesi dell'ex unione sovietica e oggi parleremo di giorgia giorgia in giorgiano sa kartvelo in russo grusia situato sulle rive del mar nero in una delle diciamo linee di dimarcazione che si parla dell'europa e l'asia diciamo a cavallo tra l'europa e l'asia se vi piace questa tipologia di video iscrivetevi al canale mettete like a questo video e scrivete un commento qual paese vi è piaciuto di più dell'unione sovietica e fatemi sapere cosa ne pensate questo paese giorgia parte dell'impero russo dal 1801 e fino alla rivoluzione 1917 e tutta la parte praticamente del ventesimo secolo era una repubblica dell'unione sovietica questo è l'ultimo paese del caucaso facente parte dell'urs che adesso è ex repubblica dell'unione sovietica da qui abbiamo già fatto ansia centrale e abbiamo fatto il caucaso dopodiché si andrà nei paesi baltici dopodiché nei paesi slavi la russia bella russia eccetera tanti mi avevano chiesto di fare le repubbliche interne della russia e se vi potrebbe interessare scrivetemelo così si continua poi con le repubbliche che fanno parte della russia e ce ne sono veramente tante a parte dell'impero russo quindi nel 9 1991 proclamò la propria indipendenza che divenne formalmente riconosciuta dal dicembre di quell'anno lì confina al nord e nord est con la russia al sud con la turchia l'armenia a sud est con azerbaijan a ovest col mar mnero e ha una popolazione di tre quasi 4 milioni di abitanti e la sua capitale è tbilisi i georgiani si chiamano si chiamano su stessi kartvelebi la loro terra sa kartvelo e la loro lingua kartuli questi nomi derivano da un capo pagano chiamato kartios considerato il padre di tutti i georgiani il nome george dato dagli stranieri usate in larga parte del mondo proveniente al greco georg che significa l'agricoltura il termine è stato anche ricondotto al nome di san giorgio il santo patrono del paese giorgia e potrebbe essere tradotta come coltivata il mondo antico ha conosciuto abitanti della giorgia orientale come iberiani dal regno caucasico di iberia che non devono essere confusi con la penisola iberica il territorio dell'odierna giorgia è stato abitato con comunità fino a prima d'età della pietra quindi anche qui parliamo di un territorio molto bello di un territorio molto antico che ha una tradizione molto molto ricca nel 337 il cristianesimo fu dichiarato la religione di stato e la chiesa georgiana si proclamò autocefala rendendosi autonoma dal patriarcato di antiochia già nel quinto secolo che fu interrotta dall'invasione dei mongoli dopodiché la georgia si è disintegrata in vari satelliti fu sottoposta all'invasione rivali della persia della turchia ottomana e nel 1783 c'è stato il trattato di georgievsk fu il primo fra uno stato georgiano e l'impero russo il 12 settembre del 1801 l'impero russo annette la giorgia orientale e nel 1810 tutti gli altri territori georgiani indipendenti con l'abolizione di patriarcato e dell'autocefalia della chiesa nel 1811 nel 1878 tutti gli attuali territori georgiani facevano parte dell'impero russo nel 78 agori nasce il personaggio famoso per tutto il mondo e che è entrato a far parte della storia nasce nella georgia iosif viserionovici stalin il quale segna la storia non solo del paese della georgia ma anche della russia ma anche di tutto il mondo intero credo che ho fatto un video su stalin ve lo lascio il video sotto ho fatto il video sui personaggi famosi russi ho messo sotto comunque i video ci sono ve lo lascio tutti il link sotto il suo vero nome era il cognome era giugashvili infatti i cognomi georgiani spesso finiscono con civili o con se quindi vedrete anche dopo quindi lui si chiamava giugashvili di cognome quindi in seguito alla prima guerra mondiale alla rivoluzione russa 22 aprile 1918 l'elite nazionalista attivata dai mincivichi e dichiarano l'indipendenza da mosca formando armenia azerbaijan e la repubblica federale democratica transcaucasica perché abbiamo già fatto altri paesi con capitali tbilisi e nel 1918 ristaurano lo stato giorgiano col nome di repubblica democratica di giorgia nel 1921 truppe sovietiche guidato da stalin diedero fino alla repubblica incorporando la giorgia all'unione sovietica nel 1922 nonostante la grande resistenza inizialmente faceva parte della repubblica socialista sovietica federativa transcaucasica sempre con belissi e poi diventata la repubblica autonoma nel 36 repubblica socialista sovietica giorgiana grusinska sevetka socialistica rispubblica in seguito poi alla perestroika perché non parlo dell'urs perché tutti i paesi erano uguali nell'urs andate a vedere i video dedicati all'urs la perestroika dopo l'urs il 28 ottobre 1990 prima elezione liberi con i sovi nazionali furono vinte dallo schieramento nazionalista rinata come stato indipendente dal dissolvimento dell'unione sovietica il 9 aprile 1991 in seguita al referendum che 98,9 per cento di giorgiani hanno votato favorevoli all'indipendenza e giorgia ha adottato il nome di ripubblica di giorgia giorgiani e caucasici devo dire mi ricordano tantissimo gli italiani soprattutto ovviamente italiani del sud e in generale come mentalità modo di fare un po di tradizione eccetera non a caso nelle carte d'identità italiane c'è scritto etnia caucasica con l'indipendenza della giorgia ci sono dei conflitti separatisti nelle regioni di abkhazia e assiezia del sud autoproclamati se indipendenti ha un territorio prevalentemente montuoso ha dominato la catena del caucaso a nord c'è il gran caucaso dove si trova la cima più alta costituita dal gara casbiak è molto alta 5000 metri che funge da confine con la federazione russa al sud c'è il caucaso minore 3500 metri e che fa da confine con la turchia e poi altri con l'armenia i giorgiani sono attorno al 83 per cento del di tutta la popolazione della giorgia e agli altri gruppi tecnici etnici sono asiri e aserbaigian 6,5 più o meno per cento armeni su 5 7 per cento e russi 1,5 per cento insomma e poi ci sono anche abkhazi e osseti quindi sono pochi ruschi vengono in giorgia anche ci sono altri gruppi etnici che abitano lì assiri ciceni cinesi ebrei giorgiani greci cabardi kurti tartari turchi e ucraini in particolare la comunità ebraica giorgiana è una delle più vecchie comunità ebraiche del mondo anche abbastanza grande e la giorgia esibisce anche una diversità linguistica all'interno della famiglia delle lingue caucasiche meridionali sono parlati il giorgiano il laz migrelliano e lo svan cioè ci sono specie di dialetti il giorgiano ovviamente la lingua più parlata in georgia 81 per cento la popolazione ma parlano anche lingua russa parlano carmeno e asero diciamo spesso e quei russi capiscono ancora il russo ecco in accordo con la costituzione della giorgia le istituzioni religiose sono separate dal governo e ogni cittadino ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa quindi 82 per cento della popolazione pratica la confessione cristiana ortodossa e la chiesa ortodossa giorgiana è un influente istituzione nel paese la città più popolosa del paese è la capitale tbilisi che è unica a superare un milione di abitanti altre città sono comunque piccole cutaissi batumi rustavi eccetera diciamo che quando c'era l'ursa nel ventesimo secolo l'economia della giorgia è stata subordinata dall'economia pianificata sovietica perché era paesi del del milione sovietica dopo la caduta nel 91 la giorgia ha avviato una grande riforma strutturale progettata per la transizione verso un'economia di libero mercato ma come tanti stati post sovietici che abbiamo anche visto a giorgia si trova ad affrontare un grave colasso economico questo capita a tutti i paesi che si staccano da queste grandi unioni ecco questo capita sempre a tutti poiché c'è anche la guerra civile e militare dei conflitti in abcasi assia del sud quindi aggrava la crisi ulteriormente c'è comunque la produzione agricola e industriale ma diminuiscono industrializzazione diminuisce dopo il crollo dell'us sempre nel 94 il prodotto interno lordo era ridotto ad un quarto rispetto a quello dell'89 il primo aiuto finanziario dall'occidente è venuto nel 95 quando la banca mondiale e il fondo monetario internazionale hanno concesso la giorgia di crediti abbastanza grossi di dollari americani e anche la germania ha dato i suoi franchi tedeschi nel 2001 54 per cento della popolazione viveva sotto la soglia nazionale di povertà dopo di che vabbè piano piano la povertà è diminuita il reddito mensile è stato circa 180 euro mensile però parliamo anche di un altro tipo di valute che hanno lari giorgiano e comunque altri tipi di prezzi ecco parliamo subito di questo quindi la banca mondiale ha definito la giorgia il primo paese al mondo i termini di riforme economiche perché in un anno passata dal cento dodicesimo posto al diciottesimo posto della cale civica dei paesi per lo sviluppo economico quindi ha fatto un salto di qualità comunque il tasso di disoccupazione c'è ha un reddito piuttosto basso rispetto alla media europea ma non si può fare paragone giorgia europa sono due linee completamente diverse e diciamo che è più filo americana più puntata verso l'europa anche se si trova più in asia in ex presidente sarkashvili del 2004 adesso è sotto arresto ha fatto un grande caos è stato anche un ministro in ucraina dopo maidan è stata anche in ucraina ora l'hanno restata e giorgia sta facendo il sciopero della fame e adesso la presidente è salome zorabischvili quindi è una donna ed è subentrata nel 2018 famosissima giorgia in tutta ex unione sovietica e anche adesso per il suo vino è come vino italiano in europa è molto famoso è buonissimo russia ha fatto l'embarco questo vino giorgia e russia hanno avuto qualche battibecco perché se abbiamo visto armenia che è più verso russia hanno sempre attaccata giorgia più si attacca verso l'europa e verso gli stati uniti e l'occidente ecco quindi ci sono state delle embargo su embargo e tanto che hanno vietato importare il vino giorgiano in russia un dei più grandi partner commerciale della giorgia ci sono state grosse rotture di legame finanziari e shock esterno l'hanno definito e alla russia aumentato anche il prezzo del gas per la giorgia hanno subentrato le sanzioni penso perché comunque è sempre stata verso filo occidentale diciamo ecco dopodiché il clima anche subtropicale o mediterraneo quindi potete capire che il clima è proprio favorevole al vino uva ed è effettivamente molto buono la cucina giorgiana è molto buona è veramente buonissima penso che forse in tutto il caucaso è quella più buona che c'è di tutto il caucaso perché ce ne sono anche tantissimi ristoranti giorgiani li troverete sicuramente se andate in russia ce ne sono tante è veramente da provare da provare e guardiamo anche la cucina che cosa c'è di interessante puri e il pane giorgiano fanno un pane particolare diciamo perché ha una forma caratteristica appunto questo è il pane giorgiano caccia puri invece è un pane col formaggio o una piadina col formaggio anche caccia puri è famosissimo proprio a livello di ex ri unione sovietica e ce ne sono vari tipi e in base alla regione alla zona varie ricette però ce ne sono alcuni quelli un po più caratteristiche su luguni è il formaggio loro per il particolare caratteristico giorgiano che assomiglia molto a mozzarella come consistenza però un pochino più salato un pochino più salato e quando lo cuoci si scioglie un po come la mozzarella mangiano anche così o mettono appunto in questo caccia puri nadu ghi è una antipasto giorgiano che anche lui combina la ricotta e formaggio diciamo mi ricordo tanto l'italia del sud ecco john jolly anche questo un antipasto interessante sono dei fiori marinati che assumono un po olive o il cavolo marinato che marini rossi insalata russa insalata di pollo è molto presente perché deriva dall'unione sovietica come qui diciamo e dal ma dal ma abbiamo già visto anche questo è in tutto il caucaso badrigianni anche questo è un antipasto di melanzane molto interessante hinkali e sono un tipo di pelmeni non so se li posso chiamare così un tipo di pelmeni o frumanti che carne diciamo sono involtini ripieni di carne tortellini ripieni di carne però c'è un altro tipo di forma ciocchiella ciocchiella è dessert cioè è un dolce sono delle noci frutta secca con fatte con un sciroppo caramellizzato d'uva quindi sono molto buoni e lo vendono anche come street food poi un'altra cosa diciamo dolce e ciri sono dei cacchi cacchi siccati ciri si chiamano borgiome è famosissima acqua minerale non solo in giorgia ma anche in tutto il mondo che lo venga bene estratta dai famosi diciamo i famosi fontane bargiomi quindi questo si può comprare anche nei negozi è un'acqua molto buona minerali viene considerata che fa molto bene alla salute ecco tradizionali vino giorgiano e lo fanno nelle carafe nelle carafe di ghisa mi pare o di ceramica lo fanno questo vino qua molto interessante e le mettono sottoterra quindi è una cosa molto tradizionale allora un procedimento tradizionale quindi veramente molto molto buono se ci andate dovete assaggiare il vino e caccia e vodka d'uva tradizionale diciamo che assomiglia molto alla grappa molto alla grappa e diciamo che i residui di uva tutto quello che rimane loro poi ci fanno la grappa se vi piacciono i super alcool ci dovete assaggiare assolutamente si chiama caccia quindi questo era tutto su giorgia spero che vi è piaciuto questo paese vi è interessato molto il caucaso e spero che questo video sulle ex repubbliche sovietiche vi piacciono perché veramente qui se ne parla sempre molto poco vi auguro buona giornata mettete il like a questo video lasciate un commento vi auguro buona giornata e si va e si danni